Chiedilo a Rianna che facciamo? Vabbè balliamo Salve a tutti ragazzi, sono Zetawillix Oggi siamo qua con l'ultimissimo appuntamento del martedì Perché oggi andremo a pompare la nuova sportiva classica uscita nel sito dei veicoli militari, ovviamente su GT Online E mi sto riferendo alla mitica Ocelot Ardent Prima di cominciare ragazzi vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su Per questo ultimissimo appuntamento del martedì e parliamo subito della mitica sportiva classica a due posti Ocelot Ardent che costa 1.150.000 dollari sul sito di World Stock, Age & Carry E come il Night Shark possiamo modificare questo veicolo ovunque, pure allo Santos Customs E non ci sarà bisogno di sbloccare nuove ricerche Quest'auto come la Night Shark sarà già pronta all'utilizzo senza il bisogno di sbloccare cose nuove L'unica cosa è che se la andrete a modificare e non lo Santos Customs Non potrete applicare le livree che invece potete fare se modificate l'Ardent all'interno di un centro operativo mobile E come vedete questa macchina ha un aspetto abbastanza vecchiotto Non a caso infatti si tratta di una sportiva classica Infatti è un'auto ispirata nella realtà di nome Lotus Esprit Ovvero la quinta generazione della Lotus Esprit Ma non solo, quest'auto è stata principalmente presa dal film The Spy Who Loved Me di James Bond nel 1977 Film dove appunto è apparsa questa macchina L'unico fatto è che a differenza del film questa macchina no, non va in acqua, assolutamente no Per quanto riguarda le sue modifiche ho speso ben più di 400.000 dollari Per un totale di circa 1.550.000 dollari Abbastanza carucia come sportiva classica E proprio come una sportiva classica ha dei fari che si aprono quando si accendono o si chiudono tranquillamente Nonostante sia un veicolo acquistabile nel sito militare Quest'auto comunque non ha protezioni, blindature o cose simili pure se modificata al massimo E nemmeno un briciolo di vetro antiproiettile Ma la cosa ancora più brutta è che sfortunatamente come il Night Shark possiede delle mitragliatrici che sparano colpi poco potenti E non è possibile cambiare arma alla guida eccetto per il passeggero Per quanto riguarda le sue prestazioni ha un'ottima velocità per essere una sportiva classica Sappiamo tutti quanti che una sportiva classica comunque in genere tende a dare quello scatto di velocità solo dopo 1-2 secondi E c'è anche da dire che la sua manovrabilità non è niente male Anche se tende a sbandare troppo se curviamo mentre guidiamo con un'altissima velocità Ma nonostante questo come prestazioni generali questa è una buonissima macchina E diciamo che la sua manovrabilità è molto simile alla Pegassi Torero Ha un modo di curvare unico a differenza delle altre sportive classiche Non so perché il sito dice che è possibile guidarla in acqua Ma vi posso garantire che non è assolutamente vero ci tengo a smentire questo Che dire riguardo questo veicolo? Secondo me costa troppo ed è davvero brutto guidare una macchina senza usare le armi per colpa di una mitragliatrice minchia Secondo me il suo acquisto è sconsigliatissimo perché costa parecchio E ha questo difetto delle armi che solitamente è importante quando si guida un veicolo e andiamo a giro per far missioni Lasciate assolutamente perdere anche perché l'Ocelot Ardent non è utilizzabile nelle gare Quindi non so a che diamine serve Davvero un peccato perché come auto è buonissima ma tutti questi errori la rendono un veicolo disastroso e scomodo E con un solo esplosivo vi fanno fuori senza problemi Ho ancora un solo colpo in testa mentre la guidate perché non c'è il vetro antiproiettile È vero che il totale di un milione è più di un milione e mezzo su per giù Perché l'ho modificata al massimo pure esteticamente Ma non vi consiglio neanche un budget per comprarla Ha praticamente troppi difetti per entrare nel vostro garage Ecco piuttosto se volete una sportiva classica optate per quelle nel sito leggendari motorsports Ed evitate di comprare quest'auto rovinata dalla Rockstar Davvero un peccato secondo me La Rockstar avrebbe potuto perlomeno fargli aggiungere missili e più armatura o comunque qualcosa del genere Secondo me non è possibile spendere tutti questi soldi, dollari per poi avere un'auto che esplode per un esplosivo Con oltretutto delle mitragliatrici schifosissime e fastidiose E volevo sapere dalle persone con i soldi moddati se la pensa come me Scrivetemi tra i commenti se avete già provato la Ocelot Ardent Parlando dei bonus abbiamo doppie RP e soldi nella serie di sfide del bunker E nella modalità competizione vendetta su due ruote La serie di sfide del bunker la potete trovare in cima Praticamente sono le prime modalità che vi appaiono dal menu Quando siete nella categoria modalità competizione O ancora meglio le auto che potete ottenere dalle missioni import-export O avviando le missioni dal computer dell'ufficio Avranno un valore aumentato del 25% quando le andate a vendere Vi lascerò una guida se siete interessati a fare queste missioni con il vostro magazzino di veicoli Perché questa volta si guadagna davvero molto bene con questo sistema Soprattutto se avete delle collezioni da vendere E se dovete fare le ricerche fatela adesso perché anche la barra ricerca si completerà il 25% in più rispetto al normale Tutto questo fino a lunedì 28 agosto Poi riguardo invece gli sconti c'è il 25% di sconto sul bunker di campagna Mentre gli uffici saranno tutti scontati del 25% Poi parlando dello sconto delle auto abbiamo il 25% di sconto sulla Rocket Voltic Sulla Cognoscente 55 e sulla Shafter PL Sempre scontate del 25% Il tutto fino a lunedì 28 agosto ragazzi non dimenticatelo Quindi niente ragazzi mi raccomando sfruttate questi bonus Soprattutto quello dell'import-export che è davvero niente male Fatemi sapere tra i commenti cosa ne pensate di questa macchina E soprattutto mi raccomando lasciate un bel pollicione in su Da ZWheelX è tutto ci sentiamo al prossimo video